Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video guida in cui voglio mostrarvi come poter completare la sfida ascendente situata nell'area Rifugio dell'Araldo e per raggiungere quest'area vi basterà recarvi nell'area Nord-Est, Rei Silvia e da lì in poi seguire le istruzioni a video, il percorso comunque lineare ed è davvero difficile perdersi. Arrivati nella stanza finale utilizziamo la nostra tintura di foglie di Regina, seguite esattamente i salti come li vedete a video, le piattaforme appariranno pian piano che ci avvicineremo e una volta giunti alla fine di questo micro percorso potremo entrare nel portale ed iniziare effettivamente la sfida ascendente. Ve lo dico subito, per questa qui in particolare vi consiglierei di essere in team da tre, è completabile anche in singolo assolutamente ma ci saranno molti nemici e legnano parecchio, per questo motivo a differenza delle settimane passate per questa specifica sfida vi consiglierei di portarvi un team. Quello che dovrete fare innanzitutto raggiungere la piattaforma centrale dove in lontananza vedremo dei nemici e per farlo vi basterà seguire semplicemente i salti, salti che sono casuali, ogni volta che inizierete la sfida il percorso sarà leggermente differente, le rocce cambieranno quindi non affidatevi troppo a quello che vedete a video, semplicemente seguite la strada è molto intuitiva e non dovreste trovare grosse difficoltà. Arrivati nella piattaforma centrale lotteremo in particolare tre cavalieri con la vita gialla inginocchiati attorno a una spada protetta da una sorta di barriera. Per uccidere i cavalieri dovremo utilizzare necessariamente quella spada e per poter ottenere la spada dovremo prima uccidere tutti i nemici circostanti, quindi uccidiamo tutti, romperemo così la barriera e potremo impugnare la spada e nell'esatto momento in cui la prenderemo inizieranno a spawnare a non finire nemici corrotti e i cavalieri si alzeranno e potranno essere effettivamente danneggiati. La spada avrà 600 di carica quindi avremo 10 minuti per completare questo step. Il mio consiglio comunque è di prendervela con calma e di ripulire sempre tutti i nemici corrotti più fastidiosi, quali ad esempio le falangi o i vandali. L'obiettivo comunque è quello di uccidere i tre cavalieri gialli. Uccisi loro tutti i nemici spariranno e potremo proseguire. Noteremo che da uno dei lati di questa piattaforma si sarà aperto un percorso con la solita lucetta bianca ad indicarci la strada e dovremo semplicemente completare anche questa parte di salti. Avremo due ostacoli però dei nemici che ci spareranno da lontano motivo per cui vi consiglierei di ammazzarli subito prima di partire e delle piattaforme perché alcune spariranno quindi ci conviene fare attenzione a dove metteremo i piedi altri invece appariranno dal nulla che più che piattaforme saranno grossi massi e ci intralceranno la strada. Il loro arrivo è annunciato da una sorta di nebbiolina viola quindi è davvero difficile morire per questo motivo però dovremo prestare attenzioni perché se urtati verremo buttati giù e dovremo ripercorrere tutta la strada incominciando dall'area rifugio dell'araldo quindi vi consiglio semplicemente di prestare un po' d'attenzione arrivati alla fine sulla piattaforma finale apparirà la cassa la potremo aprire e la sfida ascendente sarà così completata. Dunque ragazzi per quanto riguarda questo video guida sulla sfida ascendente nell'area rifugio dell'araldo è tutto come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi